attenzione che il finale è terribile no ragazzi, io muoio subito, bisogna un kit ma qua qua, c'è una vita bisogna correre c'è l'allarma come prima per fare l'obiettivo dovete raggiungere l'elicottero ok prendo il defibrillatore quello che muove siamo andati si gioca! siamo andati siamo andati siamo andati non c'è nulla 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 ma Dove siamo a posto? Cazzo ci mette una città a ricaricare sto... E' bella ma... Ma non è solo la città, ma non è solo la città. E' vero! E' vero! E' vero! Sì! E' vero! E' vero! E' vero! Cazzo ho finito la motosega Cazzo ho finito la motore 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 Sì, non so Sì 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 Ya No, sono morta! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Carletto è niente! No! Tu mi fai fermato? Io sono morta! Cazzo, Virgine, mi dispiace da finire! Non riuscivo a prendere la volenta! Hai fatto l'obiettivo! Wuh! Sì! In memoria di Carletto e Virginia! No! No! È andata così! Deceduta! No! Povero! Alla fine! Beh, l'importante è che qua abbia spaccato un po' di giù, no? Sì, ho voglia di brutto! Però non ti piace il gioco, diciamo che sei più portata per Black Ops! Sì! Ti ha fatto... No, perché mi fa troppo paura! Mi fa paura! Ho paura di cadere! Ma cadere... Ma sono caduta in un tombino! Dovunque! Sono caduta dentro un tombino all'ultimo! Che ne sai! Ah, un tombino! Eh, vabbè... Dopo un po'... Si ingrana! Bello! Bello, bello! Quindi la... La vostra vita sociale è finita? Da oggi? Le fordette... A manetta! Però fatevi la campagna! Bello! Quella weed stavamo... Fatevi la campagna di Porta 2! No... Porta non mi piace per niente! Eh... Ajajaj...